Sono Renato Stattilli, Country Manager di Aerea Europa in Italia, il prossimo appuntamento sarà al BIT dal 9 all'11 febbraio. Ritorniamo dopo alcuni anni ad essere presenti a questa importante fiera perché abbiamo notato da parte della nuova management una nuova direzione che riteniamo valida e importante e che pensiamo sia positivo per tutto il comparto turistico e ovviamente aereo italiano e quindi abbiamo deciso di essere nuovamente presenti.